eccoci qua sono in compagnia della show che insomma è quasi sfinita eh salve a tutti ragazzi vuol dire che siamo quasi al tramonto siamo al tramonto e da stamattina siamo alla fiera di Padova abbiamo fatto chilometri a piedi, paviglioni sono tanti e non si riesce neanche a vedere tutto da quanta roba c'è e niente ragazzi qualcosa abbiamo portato a casa esatto guarda qua giù abbiamo questo bellissimo Volkswagen T1 è sempre un'opera d'arte vedere il T1 questo andava portato a casa anche questo guardate qua credo che in questa zona ci sono sempre ogni anno il T1 ma veramente fantastici i vetri così bascolanti non so come si chiamano e notare il dettaglio dell'aria condizionata esatto ma già il vetro faceva già così era già aria condizionata si 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 spettacolo qua eh esatto eccolo qua e poi ne abbiamo qua un altro bello del colore un po' che piace a me il T1 giallo piccolo pareggio anche quello molto bello si certamente si forse riusciamo a vederlo anche sul scotto andiamo a vedere qua bellissimo qua T1 forse ti lo posso aprire e ti faccio passare eccoci qua guarda che qua ci sono insomma gli operatori un po' gelosi di questi di questi furgoni eh eh dai comunque dai l'abbiamo portato a casa dai insomma vedete qua la zona si apre un po' qua piccolo salottino guardate qua ragazzi T1 bello bello ragazzi tutto qualità tutto in persa spettacolo qua veramente altro non è salotto è una resa questo e niente portato a casa un po' tutto ecco qua ma per per non lasciare per non lasciare nulla a casa qua ci sono due Volkswagen due Volkswagen un maggiolone e un maggiolino abbiamo qua il maggiolone e qua il maggiolino e poi abbiamo il maggiolino ecco la gente dice sempre peccato per la per la targa e provate a farci ragazzi così notate il maggiolino il bellissimo dettaglio e gli specchietti eh ecco fantastici ecco 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 esatto forse questa è visitabile anche all'interno si è aperta guardate com'è com'è bella anche questo ha il profumo del nuovo qua bello poi veramente guarda guarda che arredamento si eccoci qua ragazzi appassionati qua dei maggiolini cabriole tra l'altro anche questa ma attenzione Joe guarda qua vedo che c'è un un'auto particolare che non ho mai vista noi spegniamo la diretta guarda qua che auto è qua vai a visionare qua che auto è non ho mai vista questa fiat 500 baldi frog è una frog tipo ho usato le Renault quelle cose lì facciamo quell'auto un po' strano del 1975 completamente restaurata motore rifatto da zero rivizioni di milla guarda qua una fiat molto particolare si non sarà la bellezza una baldi ecco non sarà la bellezza eccoci qua cari amici guardate qua bello sono salida 850 saluto qua l'amico Uglisse molto spartana essenziale all'interno ma vedete comunque è originale perché non si trova ok tetuccio apribile vedete esatto bene spettacolo ragazzi questi qua si cassano fuori solo eh noi andiamo avanti portiamo a casa archiviamo guardate lì archiviamo non è finita fino a notte fonda fino a notte fonda un saluto a tutti ciao